il nome fetta nasce dall'idea della fetta di cocomero che insieme al melone rappresenta l'anima della nostra azienda fetta vuole essere un progetto un'evoluzione un portare prodotti di qualità direttamente al consumatore portare il messaggio dell'incredibile valore che ha l'agricoltura italiana il nostro chiosco sarà quello della frutta di stagione e il nostro obiettivo sarà quello di farvela gustare in tutte le sue colorate salutari e gustosissime versioni la nostra azienda agricola dagli anni 70 produce meloni e angurio in una zona estremamente vocata per queste culture siamo dislocati tra le province di modena ferrara e manto il cuore del recipe del melone che cos'è fico italy world per noi è la risposta alla domanda che cosa c'è dietro questo piatto che cosa c'è dietro un frutto c'è un mondo una storia una storia fatta di persone di amore dedizione di agricoltura e noi ci saremo fieri di essere a fico italy world